Sono Pietro e vengo da Modica, siamo arrivati con un mio amico, siamo partiti verso le 2 del mattino e siamo arrivati alle 6 a Milazzo, abbiamo preso l'aliscafo e poi siamo arrivati qui e insieme a quelli della protezione civile ci siamo un po' uniti a tutti e abbiamo trovato un bel casino. La prima casa dove abbiamo dato una mano è quella che ancora ora stiamo cercando di tirar fuori ma ci sono ancora tante altre case da tirare fuori, però la cosa bella è che ci sono tantissime persone che stanno arrivando un po' da ovunque, giorno dopo giorno, quindi è bello vedere che come noi, come tanti altri c'è quella solidarietà che serve, si spera che arrivino anche da altre parti perché serve tantissimo. Grazie.